Buongiorno, sono in strada Utrecht, sto andando a Radio M, giornata di lavoro, ma vi porto dietro le quinte. Allora, intanto parcheggio e cerco di capire come funziona questa ricarica. Poi entriamo qui, questo è il retro in realtà, si entra dall'altra parte, però questo è tutto il complesso di Radio M. Qui all'ingresso c'è Martin, c'è anche l'amico Carol, facciamo due passi. Allora, questa è la reception, sì, più o meno la reception, dietro lì c'è la mensa, questo è lo studio principale. Ecco qui, lì c'è una piccola zona mensa, questo è ancora il retro, il salottino, l'entrata, da qui si può vedere lo studio, poi dietro c'è tutta la redazione, tutto lo spazio programmazione musicale, zona internet, marketing, eccetera, eccetera. Questa è la sala della diretta. Hey! How are you doing? Yeah, I'm okay, what are you doing? I am pre-peri... Oh no, sorry, okay. This is the on-air studio, go... How are you doing? Back again! Welcome in our studio. What are you doing? I have the show in a few minutes, Studio 60s, with real 60s music. I am gonna show you a jingle. In the style, of course, 60s. The 60s music is still very popular here, and our format is 50 plus. It's for the people who were there in the 60s, the 70s, the 80s, and we have also a few new hits, but it's very, yeah, it's for the oldies, of course. And what time are you on air? At 2 o'clock. And where are you preparing your show? I see... Yeah. I see something here. Yeah. I do it all on my own. I have, later on, the Supremes, of course. Ooh, amazing. Supremes. Bowtown is still very good. Of course... Oh, yeah. The Beatles. And we have all the jingles in the 60s style. Ladies and gentlemen, the Beatles. The Beatles Bestie. And there's a lot to learn in that time. I was very little in the 60s, but... You weren't born. I was born, yeah. I am very old. So you lived in the 60s. Yeah, it's very nice. The 70s, 80s. I was a disc jockey myself in the 80s. In the 80s, I did it. And now here, I'm for nine years here. And it's a very great station. And, yeah. And you do everything by your own, don't you? I do it in my own. And I think that's very special. To do it in my own. I have no sidekicks. Or I do it all. But I saw you were editing something there before. Yeah. You were, like, editing your waveform. Oh, this is the GML. Yes, yes. You did it. I do it in my own. And then I... Later on, I'm going to play a song of Elvis. And it sounds like this. It's not as big as this. Oh, it's very... Yeah, that's okay. So, you prepared this. You edited the log, the chains, the jingles, and everything. I'm going to edit. I have the info. The info. Made by my own. From the newspaper today in 1964. Amazing. What happened on that day, on this day in 1964. And, yeah, that is very nice. So, mainly, your job is creating content, editing logs, and... And the presentation, of course. Yeah, and the presentation, sometimes, maybe, at the end. Yeah, yeah, yeah. So, editing everything, creating the logs, find something to say, the news, and everything. It's amazing. And we have the style of an American style. It's great. The style of a WCBS. A little bit, you can hear it in the jingles, of course. It is in that style. Oh, it's amazing. Cool. So, now, coffee. Coffee. I'll be back later. Two o'clock, I'll be on the radio listening to. Be there. Thank you. Allora, qui siamo nell'area tecnica, quindi siamo al primo piano, sopra, gli studi, e sopra, redazione, produzione. Qui c'è l'area tecnica, c'è un sacco di gente al lavoro. Hello, Martin. Good coffee. Ecco qui, un sacco di gente al lavoro. You have a lot of things to do here. A lot of fun, eh, sì. Allora, questa è la zona, è la zona di relax. Ecco, fate, allora, vi faccio vedere una cosa. Questa è la cucina, è una costante. Cioè, sia questo piano che il piano di sotto è al centro. È una cucina, un angolo bar. E poi qui c'è tutta la gente che lavora. Mentre questa, aspetta, questa qui è la zona per i meeting. E invece cosa, cosa c'è lì dietro? Working places. Yes. Not for you. Not for the boss. Working places. The boss doesn't have his own desk. He's sitting there or there. Bene, alla fine di questo turno vi ho fatto vedere sotto tutta la redazione, la parte musica. C'è un sacco di gente, siamo un po' di corso, però abbiamo un sacco di cose da fare. Vi lascio comunque un po' a vedere dietro le quinte della trasmissione in onda. Questo è GML, il sistema di emissione, la piattaforma di emissione. La piattaforma è perché non è solo un play-out. Qui lo usano molte radio, ma è un sistema che pilota tutto, radio e anche televisione. se hanno la televisione, la visual radio, fa il routing dei canali, del mixer, si può fare le telefonate direttamente da qui, poi gira le telecamere, cambia le luci, cambia la scenografia, il backstage, i video wall, ogni cosa. Vabbè, vi lascio vedere un po' la trasmissione. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sì, 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 sì.